Siamo in una location diversa, e cioè abbiamo finito appena di mangiare a noi stavolta. Ci siamo resi conto che era ora, abbiamo detto vabbè, facciamo un inizio creativo. Esatto. Ecco. E ci troviamo all'esterno del bar Little Coffee del nostro amico Paolo. Ciao. Tranquillo, vedi stanno mettendo i mi piace, guarda quanti. Poi passiamo per il conto. Eccoci, siamo già in sette, sono schizzati, sì. Allora. Anna, ti piace, ciao. Serena, ciao. Cristina. Scusate ma prima di parlare di lavoro qualcuno mi può capire. Chissà se c'è Alessandra. Alessandra collegata. Per ora non mi sembra. Per ora non mi sembra. Se c'è Alessandra sa che oggi per noi fan è un grande giorno e io sono sfronta. No? Sì. Allora. Però la diretta non era sulla casa di carta. No. E se qualcuno ha già visto gli episodi oggi non mi sembra. Per carità di Dio. Era sullo spacchettamento, il primo spacchettamento dopo la pausa estiva. è un'altra cosa. Quindi io non so l'aiuto cameraman che mi dice se sto a cascata oppure no. Ciao. Allora. La mascherina che serve? No, niente. Ah, così. Allora. Aspetta Cristina che sono contro sole e non riesco a vedere che chiedi. Sì. Aspetta. Ecco. La rientriamo in ambiente. Ah, sì sì, è appena uscita la nuova serie. Per carità Cristina, sono giorni che ci si prepara, mamma mia. Mi hanno regalato la maglietta un paio di mesi fa e oggi l'ho messa. Sì. 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 Perché la dovevo mettere per l'uscita. E andiamo a prendere intanto il taglierino. Sì, il taglierino ma pure gli occhiali miei perché sennò è un po' difficile. Dunque, aspetta. Proprio spacchettamento, neanche le fascette abbiamo levato, eh? No, li avevo solo igienizzati e basta. Stanno così da quando... Scusate se... Eccoci. Se vedete delle immagini un po' ballerine ma... Ecco ora si è messa... Con una mano tengo il telefono e l'altro si è... Ecco l'Alessandra, ciao! Ciao! Alessandra Esposito! Tu hai già fatto? Ecco. Io vedo l'ora di torno a casa stasera. Metto là. Oh! Un po' di birra fresca perché non la bevo. Una bella bottiglia d'acqua, pop corn. Ecco fa. E sono pronta, eh? Cinque puntate sono uscite. Dai! Allora... Ah, Massimo! Buongiorno! Salve! Allora... Partiamo con il vero motivo della diretta. Come vedete... Ah perché non era la casa di carta? No! No! Ah vabbè! E come vedete è arrivato Rencalic. Il Natale! Il Natale di Rencalic. Che poi... Ma che c'era? Ma... Chi so ricordi? Allora non ci ricordiamo assolutamente. No, come al solito non ci ricordiamo. Ma stava salutando Paolo. Ciao Paolo! Ah! Ciao Paolo! Non l'ho letto perché col sole si è oscurato lo schermo e non ho letto niente. Ciao Paolo! Allora... Spero che ci vediate bene perché io mi vedo molto sgranata. Allora... Mannaggia la miseria! Come ci vedete? Come ci sentite? Diteci qualcosa... Eh i mezzi questi sono eh! No ma è strano! Che io possiamo fare niente! Vabbè! Allora... Chi è che si è collegato? C'è qualcun altro? Eh io! Probabilmente! No non sei tu! Allora... Rencalic, Natale... Mi ricordo che avevamo preso delle cose molto belle... Si sente bene! Eh... Non ci ricordiamo! Ma... Per il resto... Come al solito... Non c'è... Anche perché credo che sia l'ordine di... Che abbiamo fatto a luglio... Si qualcosa del genere! Un paio di mesetti si è passato! Andiamo dal pacco piccolo! Andiamo con il pacco piccolo! Si vede male? Eh... Ma vai! Aspetta no! Si vede male! E dove sono? Non ho Netflix! Ah! Quindi Alessandra non lo vede! Vale ma... Io me lo sparo tutto stanotte! Prometto non ti dico niente! È sgranato! Eh... Perché non abbiamo messo lo spot! Eh... Lo spot di chi? Mio! Il mio auto... Auto... Hotspot? Eh... Lo dovresti mettere te? Eh... Ma se adesso ti do la connessione... Ah... Cade! Eh... Vabbè! Andiamo avanti così... Da quello che ho visto... Insomma... Si intuisce abbastanza bene! Allora... Se no... Ci interrompiamo un secondo e ripartiamo? Ci proviamo? Ci promettete che vi ricollegate? Ahahahah! Facciamo questa prova! Interrompiamo un secondo il tempo di ricollegare il telefono con l'hotspot e ripartiamo! Se no possiamo anche provare! Aspetta! Vediamo! Prima di fare questa cosa... Ci proviamo! Aspettate! Eh! Casomai dammi il telefono che lo metto vicino all'entrata! Allora... 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 Allora siete... Eh... Il problema è che sono io che mi devo... Guarda se succede niente... Allora scusate eh! Se succede qualcosa ci vediamo tra pochi secondi eh! Un attimo... Allora noi siamo tornate... Eccoci! Sì! 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 Ci siamo? Sì! Ok! Come va? Non si sa! Io... Adesso... Ecco... Adesso... 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 C'è Stai 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 Fa! Prima non c'eri! Sì! Ma... Io lo vedo meglio eh! Mh! Meno male! Bene! Allora stavamo dicendo che... Eh... Partiamo dal pacco piccolo di Rencalic! Aspetta... Sì! Ma io la vedo continuativa! Anna dice benino! Benino! Dai! Andiamo avanti comunque! Un pochino meglio di prima sarà! Allora... No dam... No stai! Dammi il telefono! Lo mettiamo vicino all'entrata perché... sta... Forse... Piglia meglio! Ok! Allora! Pacco piccolo! Che c'è? Boh! Ahahahah! Bellissimo! Una cosa che assolutamente non so! Siamo sicuri che noi abbiamo ordinato questo! Ah no! È la scatola che c'è tutta... Perché... Visto questa scatola qui! No! Ma non l'abbiamo... No! L'hanno usata per mettere altre cose! Allora! Allora! Cominciamo! Vediamo che c'è qui! Ah sì! Mi ricordo! Allora! Sono... Dei numeri... Per fare... Aspetta! Io faccio... Provo a fare questo! Per fare... Diciamo il calendario dell'avvento però... Sono numeri in legno! Ok! A cinchi! Sì! Diametro uno e mezzo! Ok! Ok! Aspetta perché qua ce ne sono diverse! Poi cuori in legno con scritto Buon Natale! Sì! E dovrebbe essere cinque centimetri! Mhm! Poi... Questi sono sempre i numeri... 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 Cuori... Avviate pazienza perché appunto non ricordandoci... Sì! Ok! Non ricordandocelo neanche il po' cosa abbiamo preso! Diventa tutto un po' più problematico! Guardate che sto combinando! Sì! Ma non puoi poggiare qualcosa... No eh! Allora! Perché così tipo giocogliare è più bello! Sì! Allora! Etichette... Sempre... Buon Natale! Così si vede bene Anna dice! Ok! Quattro per cinque centimetri! Ok! Buon Natale! La vendita è questa confezione! È la confezione di queste cose... In questo caso sono sei! Sì! Di queste decorazioni di legno sono a confezioni eh! No! Volevo vedere se i numeri sono tutti uguali! Sì! Ok! Allora! E qui basta! Quindi questi tre soggetti? Questi qua! No! Anche vuoti! Ah no no no! I cuori... Sono girati dall'altra parte! Mi sembrava che li avessimo presi pure vuoti! Sì! 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 Certo! Però! Poi! Vediamo stata la scatola uguale che sarà sì infatti! Sì! Allora! E qui abbiamo eh! Infatti mi ricordavo! Che abbiamo sempre i numeri da 1 a 31 però a cuoricino! Invece che cerchio! Sì! Sì! Sempre cerchi i cuoricini, 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 cuoricini! Ammazza quanti erano prezioni! Ammazza! Ci sono piaciuti! Ci sono piaciuti! Ci sono piaciuti! Sì! Questi sono tutti a cuoricino! Sì! Ok! Finito? La scatola piccola? No! Ah! Poi! Abeti! No! Non so! Questi non sono abeti! Sono l'arice! Hai capito! Sono gli alberi in legno che ci serviranno per i vari progetti! Cioè! Ci servono per quello che ci pare! Però poi ci serviranno per i vari progetti di Natale di Rencalic! Ok! Sono alti 25! Eh! Qua la vendita è singola! Ovviamente! Spendaccione! Eh! Insomma! Anna! Noi l'abbiamo pensato anche per il fatto che queste cose vanno in fiera! Vanno tutte in fiera! Quindi la quantità ci voleva! Se no! Se spera! Se spera! Insomma! Ok! L'arice! Ok! Poi! Un pacchettino! Oddio! Sì! Lo so! Cos'è? Capito! Abbiamo appena detto! Non ce lo ricordiamo! Tutto lo ricordi però! Eh! Questo sì! Perché è inequivocabile! Anna è contenta perché dice che vede cose grandine! Guarda! L'arice! L'arice sì è grande! L'arice lo puoi piantare in giardino! Sì! Esatto! Lo puoi veramente mettere in giardino! Allora! Questi sono! Vabbè! Per noi Rencalic è nuova come casa! Il secondo ordine che facciamo! Però! Chi segue Rencalic lo sa! Questo è un must! Perché è uscito il nuovo manuale! Il manuale! Emozioni di Natale! Leggo bene? Sì! Sì! Eccoci qua! Il paio è enorme! E qui ci sono! Qua! Tutti passo passo! Guarda! Tutti passo passo! Che meraviglia! Vediamo se trovo un progetto con il larice! Vi faccio subito vedere! Ecco ad esempio! Allora! Uno venduto Anna! Va bene! Bello! Dice Rosa! Sì! Sono molto belli eh! Sì! Cioè i manuali Rencalic che poi sono fatti! Scusatemi ma è la prima volta che ne ho finalmente in mano culo! Allora me lo sto guardando un attimo! Alla fine ci sono anche i consigli passo passo su come utilizzare i materiali! Mh! E la mascotte del Natale di quest'anno è questa qua! E' il Riccio! Il Riccio! Non è la Renna! Vedi? No! E' il Riccio! In calcio quest'anno Renne non ne ha fatta! Ecco fatto! Arrabbiatissima! E' il Riccio con gli occhiali! Il babbo con l'orso! Carini che so! Sono bellissimi! Sì! Veramente! Guardate! Oddio! Che forte! E' molto bello! Bene! Ok! E quindi qui abbiamo... E questo? Allora una di Anna! Anche qua ce n'è! Sì! Addirittura noi perché abbiamo appunto fatto scaricare adesso il Natale ma era già acquistabile da luglio se non sbaglio! Sì! Si prendevano per i manuali si prendevano i preordini! Sì! Abbiamo evitato e ce li siamo fatti mandare direttamente! Allora! Andiamo sul pacco grande! Andiamo sul paccone! Aiuto! Lei! Così chi è lontano può anche vedere un po' in anteprima cosa porteremo in fiera! Lui non inquadra dentro! No no! Per carità! E quindi mi stai dicendo che è l'ennesimo scatolone che si aggiunge a questi! È probabile! Ahahahah! Beee! La piramide! Ahah! Allora! Ah beee! E' dato che ti dici! È da qualche parte tocca pur cominciare dice! Sì! Allora! Mi tengo sotto mano manuale! Per vedere le cose nello spazio! Allora! Sì! Allora! aspetta aspetta che io non mi avvicino per evitare interferenze facciamolo zoom ecco qui abbastanza rigido non lo muove troppo ecco così ferma così che siete un po meglio ok 9 casette in cartone ok ora aspettate che contemporaneamente vi cerco i progetti qua sul manuale da farvi vedere sono queste sì ecco ad esempio c'è questo progetto qua la stella ma è solo una app ok ok ce ne stanno tantissime mamma mia quanto è fatto bene questo manuale ok il villaggio poi altro questa è la capanna questo è bellissimo questa è la capanna con il paesaggio di vetrem guardate però fai la vedere da dietro e così realizzata guardate per fare la struttura si molto bella è tutta la struttura e qui pure se non mi sbaglio c'era la ricena un po no ok quindi la capanna di vetrem eccole qua poi abete 3d a incastro aspettate che ve lo cerco eh sì l'ho visto prima quando sfogliavi allora viate fede lo troverò è quello è quello non è quello non sembra strano no vabbè ora non lo non lo trovo comunque è un abete che incastrandosi diventa 3d ora non lo trovo comunque vedete gli incastri è alto 30 centimetri è come quello vero come si dice quando la piantina è piccola un bonsai di un abete vero esatto abete 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 vediamo che c'è qua sotto ah sì questo spero di trovare l'immagine perché così proprio non si non c'è dietro allora no questo si chiama quadro saturno è per fare una cornice diciamo a vari livelli qua però non è che si vede molto bene ovviamente per fare questo avviene tipo una shadow box a livelli aspetta me lo dai un attimo perché forse vediamo se io riesco ecco qua se riesco a inquadrarvelo meglio senza riflessi vediamo eccolo allora sarebbe questo vedete che ha degli spessori praticamente la cornice una volta assemblata diventa esattamente una shadow box quindi sono con le cornici spessorate con profondità di un tot di centimetri ci si possono mettere ad esempio anche le luci si infatti sia in questa hanno messo le luci sul lampione sia in questa che c'è ci sono le luci nel perimetro interno dello spessore vedete quindi quel kit lì serve proprio per realizzare una shadow box vuota poi la decorate come come volete insomma esatto poi andiamo sui tessuti sui tessuti e qui cose belle allora rencali che ha fatto questo meraviglioso velluto oh dammelo un attimo dammelo lo apriamo apriamolo apriamolo perché questo merita di essere questo è veramente si apriamo questo che poi è quello che viene usato per i progetti per i progetti del manuale si sono tagli da eh 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 sono tagli da si bello si 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 Anna si bello eh e dal vivo ancora meglio uh che ah ah rima baciata ah ho fatto lo spazio hai capito ah la pubblicità il velluto è bello ma dal vivo ancora meglio ma non abbiamo bevuto del vino a pranzo ah no io il succo di frutta ok guardate che meraviglia bello si 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 è molto molto quindi ha una base tortora questa è tortora con i ricami champagne si mi facciamo vedere i vari colori che bello quindi c'è questo e chi lo taglio io saprei quanto è grande eh quello che non riusciamo a capire perché le misure aspettate lo misuro perché non sono scritte però bisogna vedere allora è grande ce n'è uno sul grigio e non vediamo Anna non ce lo ricordiamo allora 70 70 per 50 50 50 70 le misure ok è un bel rettangolone si ok bello bello luminosissimo aspettate ora per ritornare là alzata gli ostacoli ok oddio la mosca allora io lo voglio però aspetta Anna questo è tortora vediamo i colori perché non ce lo ricordiamo uno è sicuro lo vedo da qui bellissimo bellissimo beddu ottaneo ottaneo guardate che spettacolo dammelo con ricamo argento sembra blu è ottaneo eh e questo è un carta da zucco eccolo non è grigio è carta da zucco però la prevalenza è del grigio eh Anna vicino a quello che chiedi tu c'è questo poi se passi è sul blu no il primo è l'ottaneo che in realtà è sul verde un petrolio è nella telecamera che si vede blu ma questo è un grigio carta da zucchero e c'ha dei riflessi appena appena azzurrati il grigio azzurro il ricamo è champagne pure questo poi se tu in genere il pomeriggio sei qui Anna se passi lo vedo meglio si li vedi meglio addio li vedi meglio sono ignorante filtro pannolenci nessuno dei due Cristina velluto velluto allora Anna dice grigio carta da zucchero va bene quindi una rivista e uno di quelli mi chiede la sarta che cuce no 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 è velluto velluto ah è perché lei non ci vede adesso eh vabbè no no riferisci allora poi sempre velluto però questo è aspetta che è in gergo non so è il devore il che significa che è ehm ehm inciso ha una trama allora passi lunedì ma prendi lunedì ma uno lo prendo quello sul grigio ok ok allora eh questi due io ne prendo due Anna faccia oddio dopo ci dici tu Anna mi piace fare il riassunto di quello che vuoi perché non c'è allora la rivista e a sto punto di velluti quanti ne vuoi scrivicelo a rilievo dice il devore sì sì in effetti al contrario perché è inciso questo è velluto Devorè Devorè con due ma due dello stesso colore vabbè poi nel frattempo aiutateci nel frattempo scrive allora questo è un panna con i fiocchi di neve con i fiocchi di neve ecco ferma così si vede bene questo invece si vende a metraggio questi grandi che prendiamo adesso ok il devore e c'è questo a metraggio oppure vediamo forse faremo noi i tagli vediamo un attimo lunedì vengo l'abbiamo capito Anna ma ci dovresti dire dei velluti se li vuoi tutte e due uguali cioè tutte e due carta da zucchero esatto e sì poi il rosso a bello spesso trama il rosso bello sì poi cambiamo trama ora ve ne faccio ah mica ha detto ci lascia tutto il guadagno dei mercatini va bene va bene va bene va bene vedi però grande Michi ha lavorato tutta tutta l'estate no meglio al metraggio due di velluto uguali dopo ne parliamo ci scriviamo in privato ci scriviamo in privato ci scriviamo in privato allora se ho capito tu vuoi due carte da zucchero di quegli altri e a metraggio questi sono diversi eh Anna poi dopo la diretta ci scriviamo allora allora riepilico due di velluto uguali sul grigio quindi sono i due di carta da zucchero la rivista pure? sì penso di sì però insomma non si sa mai allora questo sembra grigio ma è verde muschio che è proprio tutta un'altra cosa con questa trama damascata che è favolosa niente metraggio sì la rivista sì quindi i due più la rivista forse ne siamo uscite aspetta Anna perché magari vedi qualcos'altro allora questa versione damascata c'è in questo broccato scusate broccato broccato allora in verde che è questo qua in tortora si vede la trama? aspetta no stanno i riflessi ah dice poteva stare bene questo nella vetrina mia eh sì ok e il sempre ottaneo che poi per Rencalic il colore è il teal però cioè è l'ottaneo questo sarà difficile che lo vedi in telecamera no lo vedi ma lo vedono blu scuro no no è ottaneo sì sì solita cosa li volete vedere bene dovete da venire ok e abbiamo finito con i velluti ok ok poi il velluto questo qua devorei guardate è ad esempio il velluto ah dei pantaloni del riccio oddio si pure la maglietta c'ha le maniche della maglietta c'ha lo stesso modo è bellissimo è bellissimo poi allora abbiamo preso questi tubolari no i tubolari facciamo vedere dopo questi cordini che sono ora vi faccio vedere l'applicazione perché sono un po' difficili da capire se no nastro colinto sono dei cordini eh grandini ok ok vi faccio vedere prima i colori e poi le applicazioni c'è questo colore qua c'è questo sui grigi grigio oro tortora mhm e c'è questo con l'ottanio il bronzo il bronzo il rosa ok ok come si usano vi faccio vedere un po' l'applicazione perché visti così si sono dei nastri dei cordini decorativi ma sono tubolari? e non forse dentro ci puoi sono tubolari però non hai che ci puoi infilare no sono pieni però forse tipo un fil di ferro ce lo metti eh per renderlo rigido ora vediamo come l'hanno usato loro allora 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 ecco ad esempio questo è un piccolo esempio ho fatto questo abete di velluto e gliel'hanno girato intorno ma ci sono altre applicazioni interessanti che ho visto prima e naturalmente ora non li vedo più ecco ad esempio siccome c'è anche il progetto di questo presepe ci hanno fatto le aureole ci hanno fatto le aureole il bastone di San Giuseppe molto carini si ok e sono queste tre gradazioni chiudiamo quindi ha già il fil di ferro dentro no? no 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 quindi no ok è rigido perché è grande però non è modellabile eh ok però volendo ci si può mettere posto e chiudiamo con i tubolari ah belli 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 i tubolari di Natale le misure dei tubolari ce le abbiamo? aspetta perché forse qui si 30 cm si eccoli qua allora si 30 cm 30 cm allora glitterato verde muschi sì muschio e oro con i fiocchi di neve poi sempre con questa trama abbiamo il grigio poi sempre con questa trama abbiamo il chill l'ottanio l'ottanio sì e sempre con questa trama abbiamo il rosso eccolo qua sono glitterati eh? sì laminati sì l'urex ecco l'ho letto adesso sì ok e poi altro tipo di tubolare è quello che io chiamo massimo gravi dice cosa ci si fanno? i calzini ha detto i calzini? lo vedi siamo sulla sede ti faccio però io te lo farei quest'anno per Natale ti farei i calzini con quest'altro di tubolare che mi sembra più discreto quello peloso sì guardate quanto è bello ma questo qui l'abbiamo preso solo rosso però no 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 ah ok questo è il primo colore bello eh ci farei pure un ecco dei manicotti sì guardate eh eh per capodanno sì pè 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 bellissimo salve ciao ciao non so se è un vostro questa cosa cosa? aspettate che ci siano siamo in diretto ci siano no tranquillo che cosa c'è no sì è un pezzo di sì è un pezzo scusate un pezzo di vetrina grazie grazie Francesco grazie si è staccato col caldo vabbè per la lap dance dice Anna anche come gammaletto è perfetto poi e quindi ce l'abbiamo rosso ce l'abbiamo questo verde vediamo come lo chiamano acqua marina però aspettate perché qua c'è scritto tubolare twist duple fas oddio certo lo volete peloso? ce l'avete peloso? se no lo volete a maglia rasa? ce l'avete a maglia rasa? ah ecco non me lo ricordavo duple fas ok vale anche per il rosso sì vabbè questa linea qui ma anche l'altro è due scusate perché io poi li leggo dopo no no solo questi qua sfrangiati diciamo ok rosso acqua marina e grigio nero antracite antracite sì lo vediamo al rovescio sì carino bello stupendo eh? allora Massimo questo sceglierei per te che vesti sempre sia a parte che sfina oh Dio però fai una bella figura proprio questo qua se c'hai spettacoli a Natale vai così mi sembra una buona cosa sì e basta pensate un po' abbiamo finito io ricordavo altre cose sì io pure io ricordavo altre cose però forse non erano disponibili però sì bisognerebbe vedere sì dobbiamo vedere l'ordine e manuale ma che c'è il catalogo? lì c'è scritto ma non c'è a meno che non è insieme manuali non l'ho visto sì c'è il catalogo c'è il catalogo? bene 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 allora signori abbiamo finito ci sono domande dubbi perplessità cose non capite mi sembra gli articoli siano tutti belli interessanti sì no molto molto soprattutto i velluti i velluti sono meravigliosi ma anche i paesalti mi piace molto molto sì non parlano più quindi sono senza parole si attoniti ma è inutile li rimetto ben apporto no adesso non conviene solo solo niente noi abbiamo finito insomma che siate noti accompagnati un bel po' io ho iniziato dal caffè eh sì infatti adesso andiamo a pagare no no ci facciamo pagare no giusto giusto ci dobbiamo eh sì infatti e qui mamma mia quanto è bello fai qualche paesaggio diciamo sì con calma pure facciamo un po' di prototipi e ok allora e sì e volevo dire che il prossimo arrivo dovrebbe essere idee per creare che ci ha già mandato la disponibilità quindi gli dobbiamo dare solo l'ok alla spedizione Natale pure lì e basta però forse forse no deve arrivare una piccola piccola cosetta di stafil di stafil eh però abbiamo confermato quello che vi avevamo un po' anticipato ieri che il Natale di stafil lo vedete al negozio dopo la fiera perché se no non c'entriamo più nello stand sì no abbiamo dovuto fare delle scelte è vero che ci siamo allargati con lo stand però sì però di stafil portiamo il fommi portiamo il fommi portiamo gli stampi per il fommi gli stampi per il fommi quindi di stafil sarà in realtà presente come marchio non con il Natale ma con queste altre cose sì stampi per il fommi e fommi 1-2 mm e anche sia tinta unita che decorato e a costo a ottimo fuori il catalogo aspetta dammi un secondo che voglio vedere solo una cosa se riesco invece da qui a far vedere la pete 3D che qua dovrebbe dovrebbe esserci perché non è una uscita di adesso eccolo no però deve stare lì ma il legno l'ha passato eccolo eccolo qua sì aspetta ecco quindi sono due elementi che si incastrano tra di loro quindi poi rimane anche in piedi certo ok ecco volevo farvi vedere volevo farvi vedere questa cosa qua vengo a fare i fiori come corse la fiera e non si possono fare Anna perché creano assembramento per cui facciamo qualche demo e vediamo e vediamo pure se è possibile perché creano assembramento quindi su questo dobbiamo avere ancora istruzioni dalla fiera ok bene allora signore speriamo che vi sia piaciuto questo primo spacchettamento dopo la pausa estiva vi aspettiamo in negozio vi ricordiamo che in negozio ci sono sempre le riduzioni per entrare ad Abilmente con le quali avete diritto vi saluto ci rivediamo lunedì ciao Anna ciao con le quali avete diritto a pagare 6 euro invece che 10 e tutto online perché la biglietteria fisica è chiusa proprio per il discorso dei file assembramenti eccetera eccetera per cui fate tutto online e poi comunque fate sempre per quello che riguarda la fiera riferimento alla pagina ufficiale di Abilmente se avete bisogno di altre informazioni chiedete direttamente a loro così avete tutte quante le info stand 411 23-26 settembre signore e signori signore e signori è stato un piacere come sempre io tra poche ore tra poche ore ve lo dico spengo il telefono non ce ne sto più per nessuno e vado e c'è quello apposto la casa dei papelli o lì o lì o lì perché mi hanno chiamato scusa se ne arrivi te no non se non vai in onda certo no no proprio non va bene grazie grazie e alla prossima ciao grazie ciao ciao